È il terzo anno che vengo invitata a questo summit dell'economia ed è sempre molto interessante perché si prendono sempre degli spunti sull'imprenditoria femminile, sull'occupazione. Oggi il professor Mauro ci ha dato dei dati anche sul gender e quindi sull'occupabilità. Nel pomeriggio poi ci sarà un intervento interessante con la presidente della CNA Impresa Donna Nazionale che ci parlerà appunto dell'impresa donna e quindi dell'occupazione delle donne in Abruzio e anche in Italia. Anche perché la nostra regione dal suo punto di vista è una delle prime, quindi è sempre bello essere qua e anche molto interessante.